Buongiorno e ben trovati In questa edizione di Mattino 6, venerdì 16 marzo 2018, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e le prime nazionali, in evidenza altri sviluppi sul fronte dell'omicidio neri, con l'interrogatorio ieri di due fratelli maggiori della vittima, poi l'operazione di droga contro lo spaccio di droga nel Terramano che è stata portata a compimento ieri dai carabinieri, poi ancora sulle pagine nazionali altre prove d'intesa per i presidenti di Camera e Senato, e poi fibrillazioni internazionali che hanno il presidente Trump degli Stati Uniti nel mirino. Iniziamo la nostra rassegna, chiaramente le pagine che andremo a sfogliare saranno accompagnate anche dalla visione di alcuni servizi del TG6. La rassegna delle prime pagine dei quotidiani locali, le quattro edizioni del centro, l'edizione di Pescara, ecco l'apertura, i fratelli neri interrogati per quattro ore, Massimiliano e Paolo Junior ricostruiscono i rapporti del 28enne ucciso. Scendiamo e siamo con una serie di richiami, il progetto Enea Abruzzo in corsa per la fusione termonucleare e poi ancora grandi opere, Maresca crea un mega impianto solare in Iran. Poi sul fronte regione il rimpasto giunta, spunta la conferma del piano DEM. Vediamo la fotonotizia attiva, i dipendenti licenziati interrompono il Consiglio, tensione in comune, sfiorata la RIS, questo è uno dei momenti di tensione con i lavoratori licenziati e la consigliera Marcheggiani. E poi ancora vediamo di spalla, sempre per la cronaca Pescara, due arresti, coppia aggredita con il Crick e la Mazza. Sempre a Pescara, processo per abusi, in quattro difendono Don Vito. A Montesilvano sequestrate due case d'appuntamenti per transe. Poi sotto la fotonotizia controlla a distanza l'orto inventata da due pescaresi, l'app dedicata agli agricoltori. In basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quelli che ti lascio perché ti amo troppo. E passiamo all'edizione aquilana del centro, muore schiacciato alla cartiera. L'Avezzano, la vittima del 43enne di Donato, travolto da un muletto. La fotonotizia, case e mappa, affitti più alti e lotta agli oltre 400 abusivi. In 12 mila nelle abitazioni post-sisma. E poi di spalla, sempre all'Aquila, tasse da restituire. Come limitare i danni. A Sulmona, la villa comunale pronta a rifarsi il look per il calcio di serie D. Sempre crisi in seno all'Aquila Calcio. L'Aquila Caos, il comune batte cassa. E siamo all'edizione terramana. Con l'apertura, sempre dedicata alla cronaca. Traffico di droga. 11 arresti, cocaina e hashish da Napoli a Teramo. Due indagati legati alla Camorra. Poi la fotonotizia, protesta degli sfollati davanti all'ufficio ricostruzione, il sit-in, che è legato al post-terremoto. Vedremo più tardi anche il servizio di spalla per la politica. Elezioni a Teramo PD sarà di sabatino il candidato sindaco. E poi ancora, Giulianova, il processo. Castrum ha messe 700 intercettazioni ad Atri. Fermati due scuolabus erano senza revisione. E quindi, l'edizione di Chieti del centro. L'apertura, intascavano i soldi delle bollette. Chieti, inchiesta sulla teatreservizi. Ex dipendenti sotto accusa. La fotonotizia, fioriere e capiteli rotti alla sbarra il vandalo di Vasto. Trentenne accusato di danneggiamento di beni pubblici di spalla. Sempre a Chieti. Angelini ha processo per un sarcofago. Sempre a Chieti. Casa di riposo in crisi. Ecco i comuni morosi. Ad Atessa. Indotto Onewell. 33 licenziamenti. E ora, la prima pagina del messaggero Abruzzo. Abruzzo, l'apertura dedicata al delitto Neri. Ale, i fratelli dai carabinieri acquisite per ora le testimonianze di Paolo e Massimo. Tornati dall'estero a rischio il funerale del ragazzo. Ucciso a colpi di pistola. Previsto per domani. Poi una serie di richiami sotto la testata. Testata, droga, operazione Castrum a processo a Teramo con 15.000 intercettazioni. Poi sempre nel Teramano i santoleri, i testimoni non sono attendibili. E per il calcio Pescara adesso è vietato perdere. L'Aquila, sindaco contro la società. In serie D si consume il dramma di Rosso-Blu. Le istituzioni chiedono chiarezza. Serie C, il Teramo in ansia per Bacio Terracino. Operazione Tifosi per Avezzano Francavilla. Il derby di serie D previsto per domenica pomeriggio. Ore 15.000 di Spalla. Arrivano i fondi per le attività produttive colpite dal terremoto. I soldi sono erogati dal Mise. Le richieste vanno presentate entro luglio. Poi la fotonotizia, stipendi sospesi e bagarre, la rabbia dei dipendenti di Attiva. Qui un altro momento di tensione in aula. Sempre in taglio medio, incidente sul lavoro in fabbrica. Muore un operaio di 43 anni. L'uomo non sembrava gravissimo. Poi l'improvviso peggioramento. In basso vaso rubinetti, quasi all'asciutto. Andiamo a chiudere con la prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Con il titolo d'apertura, Sisma ha erogato il primo contributo. Otto mesi per la pratica di una casa danneggiata in maniera lieve. Per i tecnici è davvero troppo sotto la testata. Teatro romano, nessun ostruzionismo sul referendum. Teramo, settore delle opere pubbliche alla frusta. E poi la fotonotizia protesta. Boomerang, ricostruzione. Criticati i political sit-in di fronte all'ufficio speciale sulla ricostruzione. Di spalla a Santomero. Anche la discarica finisce sul tavolo della procura. Mazzetti a Giulianova, riuniti i due processi Castrum a Roseto. Gli operatori chiudono la porta al sindaco. In basso, sempre per la politica, Teramo al voto. Dal direttivo PD arriva il mandato esplorativo per l'attuale presidente della provincia, Renzo Di Sabatino. Proseguiamo ora con la rassegna delle prime pagine delle testate nazionali. Il Corriere della Sera apre con alcuni sviluppi internazionali. Ecco qui, alleanza a quattro contro Mosca. Gli Stati Uniti aprono un secondo fronte per il voto 2016. I russi risponderemo. Berlino e Parigi con Londra. Trump sanziona oligarchi e dirigenti. Gentiloni solidale. Poi sotto la testata, la faccia di un sorridente urbano Cairo. Sorridente perché il bilancio, ecco qui, balzo per la RCS, utile a 71 milioni. Poi in taglio medio, la fotonotizia, l'agguato a Marielle, voce degli ultimi. La consigliera comunale a Rio uccisa in auto con 10 colpi. Sempre in taglio medio, sfida sulle camere, ma regge l'asse tra Di Maio e Salvini. Il Movimento 5 Stelle rivendica Montecitorio. Avanti con Repubblica. Ecco il titolo d'apertura. Il PD non fa patti con nessuno. Intervista a Martina. Servono scelte radicali. Il partito deve rinascere dall'idea di comunità. Prove di governo, Lega 5 Stelle, rissa tra Berlusconi e Salvini. Via alle trattative per le camere. E poi la fotonotizia. Gas nervino a Londra. Trump e l'Occidente contro Putin. In basso l'indagine sul giornalista ucciso. L'infiltrato dell'Andrangheta. Il boss diceva in Slovacchia. Controllo doganieri. E' 007. Aiuto agli studenti. Borse di studio. L'Italia ai minimi. Ma finirà la beffa dei vincitori virtuali. E poi la ricerca. Test DNA sui gemelli. Dopo 340 giorni. Torna dallo spazio con i geni modificati. La stampa che apre così. Intanto con la politica. Tre condizioni del Quirinale per il governo. Maggioranza sicura. Ministri e un programma credibile. Centro-destra vicino alla rottura. Le consultazioni dei 5 Stelle. Vogliamo la camera. E poi la fotonotizia. Siria. La grande fuga da Gouta. 20.000 profughi via dall'inferno. Assad verso una vittoria sanguinosa. E poi di spalla Laura Pausini. Cantare al Circo Massimo. Mi fa perdere il sonno. Sta per iniziare il campionato di motociclismo. MotoGP Valentino infinito. Altri due anni con Yamaha. E poi in basso gli alleati con Londra contro Putin. Solidarietà a May. Trump. Sanzioni per i cyberattacchi. Lavrov pronto a espellere. Diplomatici britannici. Il sole 24 ore. Ecco il titolo d'apertura. NPL. La svolta BCE costa 4 miliardi. L'impatto stimato delle nuove regole della vigilanza sulle banche italiane. Linea guida sui crediti deteriorati più morbide rispetto alle attese. Si attenua il timore di stretta creditizia. E poi in basso dazzi gli Stati Uniti contro la fuga di high tech stretta sulla Cina fino a 60 miliardi. Sanzioni pronte per il Russiagate. Allo studio restrizioni sull'import da Pechino che obbliga le società a trasferire tecnologia. Il fatto quotidiano. Ecco l'apertura. Di nuovo il caso Consip in evidenza. Nuovi indizi. Papà, Renzi, Lotti e compagni richiamati in procura. Il ministro sarà messo a confronto con l'ex manager Marroni. Sotto la testata. Una esclusiva del fatto quotidiano. Altro terremoto nel calcio. Il fisco da la caccia a raio. Le autorità olandesi passano al setaccio. I trasferimenti per quanto riguarda il noto procuratore di calcio. Poi tornando in basso alla politica. Prove di disgelo. Presidenze. Si tratta la paura del voto bis fa 90. Primi passi PD sulle Camere. Il manifesto. Restiamo in tema perché il titolo è proprio Camera Caritatis. I 5 Stelle avviano le consultazioni dei partiti per le presidenze di Camera e Senato e chiedono l'appoggio di un grillino a mottecitorio. Sul piatto l'immediata abolizione dei vitalizi. Il PD apprezza il metodo ma frena sul voto. Centrodestra nel caos. La Lega scalpita. E poi sotto la testata a caso Skripal torna la guerra fredda. Tutti contro Mosca. Mosca contro tutti. Il messaggero. Proprio restando anche in questo caso in tema. L'apertura è la seguente. Guerra di spie. Tutti contro Mosca. Stati Uniti, Francia, Germania e Italia con Londra dopo l'attacco chimico contro l'ex 007 russo. Ritorsione di Putin e diplomatici espulsi. Sanzioni di Trump per le ingerenze nel Russiagate. Poi in taglio medio per il calcio. Impresa Lazio 2 a 0 alla Dinamo. Vola ai quarti di Europa League. Leiva e De Vrij firmano la vittoria a Kiev. In taglio medio la politica. Camere la richiesta di 5 Stelle divide Salvini e Berlusconi. Di Maio chiede Montecitorio alla Lega. Berlusconi tratta con il PD. E poi in basso segnalato dall'FBI. Ucciderò nell'asilo in nome dell'Isis. Arrestato a Viterbo. E ora il tempo. Il quotidiano capitolino. Attenzione alle donne kamikaze. SOS dell'antiterrorismo. L'ultima minaccia. Tentati compiuti da combattenti in rosa. Preso a Viterbo un aspirante giadista Lettone. Era pronto a uccidere i bambini all'asilo. E poi la fotonotizia. Il tempo di Osho. Caccia al Premier Superpartes. Con la Meloni che bisbiglia a Salvini. E la Camera piamosela a noi. Che il Senato è pieno dei vecchi. Questa nella ricostruzione fantasiosa. In un certo qual senso. Ironica. Del tempo. E poi in basso. Zingaretti. Raggi. Due debolezze fanno un patto. Governatore e sindaco. Ciascuna le prese con più di un grattacapo interno. Provano ad aiutarsi a vicenda. Libero. Ecco l'apertura. Donne ammazzate. Ammazzate una volta su quattro. Il killer è immigrato. Attente a chi vi odia davvero. Gli stranieri sono l'8% della popolazione. Ma commettono il 25% dei femminicidi. E la Boldrini non apre bocca. Perfino in Venezuela ed Ecuador. Si sta meglio che in Italia. Poi spalla. Debito pubblico da suicidio. Grazie a economisti del piffero. Paduan aumenta il rosso. Insulta 5 Stelle e Lega. Chi ci porta al falimento dà dell'incapace agli altri. Poi in basso ci sono questi punti di vista. Sette motivi per bocciarlo. Il reddito di cittadinanza sarebbe la fine del Sud. E poi imitiamo la ricetta Trump. Se ci tocca sorbirci l'Unione Europea. Cambiamo le sue regole. E poi in taglio medio. Meloni, presidente della Camera. Proposta di La Russa. Se Salvini rinuncia. Avanti Giorgia, il leader della Lega. Non mi risulta che Berlusconi abbia chiuso ai grillini. Avanti ora con la verità. Ceduto un pezzo di taglio. Il governo regala alla Francia. Un giacimento di gas e petrolio. Gentiloni non solo ha concesso a Parigi zone di mare ricche di pesce. Ma ha messo a disposizione dei cugini miliardi di barili sotto il fondale. E nessuno spiega il perché di questo atto da masochisti. E poi nella fotonotizia una delle bimbe di Latina si poteva salvare. Bastava sparare al padre. Poi ancora in taglio medio. Un fondo per le vittime dei clandestini. L'ultima è una ragazza di Milano stuprata da un colombiano irregolare. Il presidente dell'osservatorio nazionale di sostegno. Lo Stato non espelle. Quindi si assuma le proprie responsabilità. E risarcisca. Ora l'avvenire, l'apertura. Tutti contro la Russia nella guerra delle spie. Ma Putin vola verso la riconferma alla presidenza. Europa e Stati Uniti si schierano con la Gran Bretagna. Mosca respinge le accuse e annuncia ritorsioni. Domenica presidenziali dall'esito scontato. E infine il mattino. Il Movimento 5 Stelle punta alla Camera. Noi la presidenza. Il centro-destra si divide. Salvini apre. Berlusconi no. Trattative serrate per Montecitorio. Il PD nessuna preclusione. Ma i profili siano all'altezza del ruolo. In taglio medio il governo salva Napoli. Intesa antidissesto con il Comune. Lo Stato si accolerà il 77% del debito. Possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna delle pagine nazionali. Torniamo alle locali. Siamo sul centro, a pagina 2, con questa notizia di un imprenditore abruzzese. Maresca che crea il primo parco solare in Iran. L'azienda pescarese inaugura la centrale fotovoltaica da 17 milioni di kilowattora e 30 mila pannelli. Copre interamente un terreno di 20 ettari ed è grande come 40 campi di calcio. E poi ancora in basso ed è pescarese l'app che controlla l'orto. L'idea innovativa di Cigli e Carconi premiata a Milano. Domani sarà presentata anche in Abruzzo. Pagina 3, sempre restando in argomento. L'Abruzzo in corsa per il progetto Enea. L'interporto di Manopello nella sfida tra otto regioni per assicurarsi un laboratorio da 500 milioni e 1600 posti di lavoro. Ecco come funzionerà l'impianto. Un cilindro più caldo del sole che sfiora 100 milioni di gradi. Poi in basso l'esperimento dura 20 anni. Si chiama DTT. È finanziato da governo, Unione Europea e Cina. Lo scienziato Crisanti può generare un giro d'affari di 2 miliardi. Proseguiamo e siamo alla pagina dell'Abruzzo. Ecco qui i soldi del Masterplan. Firmati gli atti. Ecco i milioni per 16 opere strategiche. Dalla fortezza di Civitella alla Stella Maris di Monte Silvano. Dalla Maielletta al Parco della Vino. Finito al vaglio delle procure. Vediamo a tal proposito il servizio del TG6. Sono risorse straordinarie che stanno all'interno del Masterplan e che oggi entrano nella contabilità pubblica degli enti incaricati di appaltare. Sono circa 21 milioni di euro per Passo Lanciano. Risorse attese da 25 anni, da 30 anni. Noi abbiamo assegnato queste risorse alla bravissima Arap affinché appalterà velocemente dopo l'idonea progettazione già curata. Così come gli altri interventi riguardanti tutti i comuni per i beni culturali. Da Civitella del Tronto, 4 milioni di euro. Alla Casa di Silone a Pescina. Al Palazzo a Tagliacozzo. Al Parco didattico della Vino. Tematizzato giustamente anche da coloro i quali hanno per compito costituzionale attività di accertamento. Tutta questa attività finanziante porterà cantieri e poi porterà opere pubbliche idonee per rendere più attrattivo e funzionante l'Abruzzo. Con oggi non c'è più scusa. Gli enti pubblici incaricati devono procedere alle gare d'appalto. Abbiamo anche fatto qualche mese fa un incontro con la Corte dei Conti e con la Ragioneria Generale dello Stato per spiegare che con una delibera cipe si può partire con le gare d'appalto. Ma oggi abbiamo firmato gli atti di concessione finanziaria. Praticamente nelle ragionerie comunali, provinciali e di Arap si conferisce l'idonea titolarità finanziaria. A questo punto possono contrarre e possono finalmente dare vita a quelle attività maestose per quanto mi riguarda che sono i cantieri. Proseguiamo sempre sul centro. Rimpasto le smentite diventano conferme. Trattative incrociate tra PD e civica popolare. Paolucci scatena la reazione del 5 Stelle Pettinari. Veniamo alla cronaca entrando nelle pagine di Pescara. Allora, nell'argomento ovviamente l'omicidio neri. I fratelli di Alessandro dai carabinieri per quattro ore. Lunga audizione in caserma di Paolo Junior e Massimiliano rientrato da Miami. Investigatori ancora nella villetta di famiglia Sportore portato via il computer. Abbiamo le immagini del pomeriggio di ieri, pomeriggio di interrogatori. Andiamo anche a leggere alcuni passaggi dell'articolo firmato da Simona De Leonardis del centro. Ieri pomeriggio appunto sono stati ascoltati Paolo Junior e Massimiliano. Quest'ultimo tornato due giorni fa da Miami dopo il braccio di ferro con la burocrazia che ne ha ritardato i tempi di rientro. Ne hanno risposto i due fratelli dello sfortunato Alessandro alle domande degli investigatori che il giorno prima avevano riascoltato la madre. Erano accompagnati tra gli altri dal padre Paolo Neri e dallo zio Antonino Ida. E poi ancora, leggendo sempre nell'articolo, in sostanza si indaga, si fanno domande sui rapporti, sui presunti rancori, sui contrasti con la famiglia della madre Laura Lamaletto che gli investigatori hanno ascoltato, avevano già appunto ascoltato. Paolo Junior, informatico a Dublino in Irlanda e Massimiliano, chef a Miami dove si è sposato e dove la madre Laura contava di trasferirsi presto insieme con Alessandro. In particolare gli investigatori si sono soffermati anche sui rapporti con il cugino Gaetano Junior attualmente alla guida dell'azienda di famiglia e sul quale, in attesa di ascoltarlo, appena rientrerà in Italia, hanno avviato tutta una serie di accertamenti per sgomberare il campo anche da sospetti alimentati da chi ha riferito di una presunta lite tra Alessandro e il cugino. Questa insomma è una pista, questa dei rapporti eventualmente conflittuali con il cugino che viene condotta, che viene percorsa dai carabinieri, ma non è l'unica pista perché appunto, per quanto riguarda i carabinieri, ieri sono tornati a casa della famiglia Neri per prendere il computer e altri elementi ritenuti utili alle indagini. Peraltro nelle immagini abbiamo visto anche un amico di Alessandro Neri, Cristian, che appunto era in caserma ieri insieme allo zio di Alessandro, Antonino Idà e al papà Paolo Neri. Chiaramente è una vicenda che continueremo a seguire, eccolo qui l'amico di Alessandro, Cristian, è una vicenda contorta che continueremo a seguire nel corso dei nostri prossimi notiziari. Possiamo rientrare e restiamo sempre sulle pagine di Pescara, attiva, sfiorata la Rissa con i lavoratori licenziati, in 18 entrano nell'aula consigliare con mogli e figli, vogliamo i soldi di febbraio, minacce, poi l'accordo, pugni battuti sui tavoli, sedie rovesciate, ma alla fine gli ex dipendenti ottengono l'assegno richiesto grazie a Pagnanelli. Andiamo avanti, i parrocchiani di Don Vito, mai sospettato di abusi, il processo contro il sacerdote accusato di molestia nei confronti di un minore, testimoniano quattro ragazzi della chiesa di San Camillo dell'Ellis di Villa Raspa. Avanti ancora, pestaggio con Crick e Mazza, due arresti, coppia aggredita in casa da sei persone, tra cui quattro donne, dietro c'è una faida familiare per l'affidamento di minori. E poi ancora, volontari in piazza con le uova di Pasqua della solidarietà, prende il via oggi la campagna dell'AIL per finanziare la ricerca, Cappuccilli con un piccolo gesto si donano speranze ai malati. E poi ancora, proseguendo sulle pagine di Pescara, Ciac si gira al mercato ittico con De Luigi e la Ramazzotti, le telecamere del film No Kids, Io, Te e Sofia di chiesa in città, fino a martedì riprese tra gli stabilimenti Penelope e Moro, in via Misticoni e via delle Caserme. E poi in basso Paolo, campione nazionale di pizza, Cantagallo, 24 anni, pennese, si è imposto nella prova al Saral Food in via Tirino. Le pagine di Montesilvano con il blitz della polizia, sequestrate due case d'appuntamento in via Venezia Giulia e via Lucagna, si prostituivano transessuali sfruttati da un colombiano che subaffittava le camere. E poi di spalla, sempre a Montesilvano, coro di critiche per l'eliminazione della ZTL in via Roma. In basso il curvone sarà Largo Venezuela, il nome scelto dai cittadini per intitolare la piazza vicina ai grandi alberghi. A Città Sant'Angelo, casa di accoglienza minori, il progetto riprende vita a Città Sant'Angelo, la provincia avvia la procedura per cercare finanziamenti, la struttura mai aperta e gravemente danneggiata dai vandali va completata. Pagina 25, siamo a Francavilla, no al market al foro, anche il PD contro Luciani, segretario del circolo cittadino contrario al nuovo insediamento, ci sono discount a poca distanza e si rischia di mettere in crisi piccole attività. In basso, Serraiocco assolto in appello, non si appropriò di 113 mila euro come presidente della Folgore San Buceto. Avanti, siamo a Penne, Asl, file e disagi al CUP, anche a Penne e Popoli, code di ore per effettuare i pagamenti delle prestazioni ospedaliere prenotate. La dirigente Ceccagnoli, stiamo cambiando il sistema operativo, serve pazienza. Poi ancora, siamo alle pagine di Chieti, intascano i soldi delle bollette dell'acqua, inchiesta alla Teate Servizi. Blitz dei carabinieri, ex dipendenti sotto accusa, presi pagamenti incontanti, ma sui conti non ci sono tracce dei versamenti. La denuncia di Barbone è stato il direttore generale a presentare l'esposto, sequestrati i documenti e la società chiama un avvocato per il caso. E c'è la reazione del primo cittadino, voglio chiarezza al più presto, di primio i responsabili saranno chiamati a risarcire i danni. Andiamo avanti, sempre a Chieti. Angelini finisce a processo per un sarcofago romano, l'ex re delle cliniche private, imputato per ricettazioni di beni archeologici, ma la difesa contesta la data del reato. Nel 2013 quel reperto era della curatela. A Ortona, gomme e rottami in mare, i fondali vanno ripuliti. Ordinata la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle acque del porto. L'autorità dà il via all'intervento nella zona dedicata all'ormeggio dei mezzi. Siamo alle pagine di Teramo. Droga da Napoli. 11 arresti in due legati a clan camorristici, sequestrati 2 kg di cocaina e 4 di hashish nell'operazione che è stata chiamata Stasenza Pensieri. Le basi operative dell'associazione Adalba e Martinsicuro, lo spaccio affidato ad Albanesi e Rom sulla costa teramana e marchigiana, i corrieri arrivavano quasi ogni settimana dalla campagna con macchine di piccola cilindrata. La sostanza stupefacente è spesso nascosta nelle ruote di scorta. Invece per la politica, elezioni a Teramo il PD sceglie Di Sabatino. Il presidente della provincia sarà il candidato sindaco e è stato designato dall'Unione Comunale del Partito. Poi ancora, tornando alla cronaca è l'operazione di cui abbiamo visto il titolo poco fa, il racconto del boss spentito, i miei traffici con Teramo, un mese fa in tribunale la deposizione del collaboratore di giustizia Oliva, ero in fuga dalla guerra di Caivano, vivevo qui e facevo arrivare di tutto. E in basso, sempre per la cronaca, Castrum ha messe 700 intercettazioni, nuova udienza del processo su appalti e mazzette al comune di Giulianova, riuniti due procedimenti. Ad Atri, multati due scuolabus, viaggiavano senza revisione, i pulmini della ditta Angelino fermati per controlli dalla polizia stradale non avevano alunni a bordo. A Stolfi la società verifichi subito la regolarità di tutti i mezzi, altrimenti le toglieremo il servizio. Pagine Aquilane, le tasse da restituire, aziende nominate, subito un perito. Ecco i tempi, le modalità e le indicazioni del Presidente dell'Ordine e dei dottori commercialisti per limitare i danni. E poi in basso parla il neoparlamentare Antonio Martino, Regione, pronti a esprimere il Presidente, centrodestra, prima coalizione in Abruzzo, sceglieremo l'uomo giusto, dice Martino. Ad Avezzano la cronaca con l'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta ieri. Operaio muore schiacciato da un muletto. La tragedia alla cartiera a Burgo. Il 43enne Marco Didonato è stato soccorso e trasportato in ospedale. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici. La vittima era un grande appassionato di ciclismo e si allenava spesso in percorsi impegnativi. Lascia la compagna Pina di Sartoria del Corso. E poi ancora, sempre per la cronaca, si schianta con l'auto e perde la vita in A24. È deceduto un romano di 60 anni finito contro il guardrail tra i caselli di Carsoli, Oricola e Vicovaro. Ci fermiamo. Terminiamo qui la prima parte di Mattino 6. Ora spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi la seconda parte. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di Mattino 6 con il messaggero Abruzzo. Il rilancio dell'Abruzzo da Alfonso ai sindaci. Non abbiate paura. Sbloccate le opere del Masterplan. Il governatore subito gli appalti. A Pescara finanziato alla provincia anche il parco didattico del Lavino. Tra gli interventi il recupero della Casa di Silone e il potenziamento degli impianti di sci della Maiella. In basso l'impasto in regione Lolli chiarisce. Occorre rafforzare la condivisione. Intanto Gerosolimo e Di Matteo lasciano intravedere uno spiraglio dopo l'annuncio delle dimissioni. Su questo fronte da registrare anche l'intervento dell'assessore regionale Paolucci. Facciamo il punto della situazione nel servizio. Le ipotesi di scomposizione dell'esecutivo regionale sono ricostruzioni da realtà aumentata con intuizioni suggestive di stampa e quanto dichiara in una nota l'assessore della regione Abruzzo Silvio Paolucci commentando i rumors che vorrebbero grandi manovre nella giunta dopo la lettera di Gerosolimo e Di Matteo con il presidente che avrebbe già deciso la exit strategy. Ogni decisione verrà presa collegialmente dalla maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta regionale continua Paolucci. Smentendo così quanti vorrebbero salva la posizione di Gerosolimo e della sua lista civica sebbene ha manifestato apertamente il suo dissenso l'ingresso anzi il ritorno di Mazzocca sempre in giunta assieme all'appoggio di Giorgio D'Ignazio naturale prosecuzione del percorso che lo ha visto candidato con la civica popolare della Lorenzina all'interno del centrosinistra nelle passate elezioni politiche. Proprio il consigliere all'opposizione in consiglio regionale allontana da sé ogni lazione afferma di non voler fare la stampella di nessuno. Inviterei chiunque da queste notizie alla stamba di finirla perché non sono merce di ricatto la maggioranza deve trovare al suo interno i propri numeri per poter governare quando presenterà delle leggi che fanno a mio avviso il bene del nostro territorio sarò lì a fianco a votarle quando invece queste non le ritengo giuste non le voterò ma adesso basta veramente. Dora Pescara licenziati e senza paga rivolta in comune dei lavoratori exattiva irruzione in consiglio e confronto tesissimo con l'azienda la mensilità di febbraio sarà versata ma non finisce qui scontro riaperto dopo la causa persa in appello sfiorata la rissa parole grosse e tavoli sollevati per l'opposizione non c'è più fiducia nella dirigenza chiesta la testa dell'amministratore Massimo Papa e poi l'ACA tre rotture sulla condotta idrica Corso Vittorio chiude una settimana dal civico 229 al 231 sarà eseguito uno scavo profondo resta aperto il tratto iniziale fino a via Teramo e poi sempre per la cronaca abbiamo visto già le immagini nella prima parte di mattino 6 i fratelli di Ale sentiti dai carabinieri Massimo e Paolo Junior arrivati dall'estero interrogati sui rapporti con il Amaletto e le amicizie del ragazzo ucciso gli specialisti del RIS oggi al lavoro sulle auto sequestrate a nonno Gaetano l'amico Cristian omicidio inspiegabile in caserma anche il padre e uno zio prosegue l'indagine patrimoniale sulla famiglia aperte altre piste poi ancora in basso sempre sul fronte della cronaca giudiziaria Defanis malato rinvio a fine maggio con polemiche abusi sessuali sul Chierichetto sentiti tre ragazzi nel processo a Don Vito avanti siamo sempre a Pescara con la cronaca spedizione punitiva contro la ex la donna è il compagno colpiti con una mazza da baseball da Claudio Spinelli 52 anni arrestato dalla mobile finisce in maletti anche il genero Rudy Dertini 32 anni che ha distrutto l'appartamento della coppia con un cric il blitz il 17 febbraio per questioni legate all'affidamento di tre figlie minori accuse e guai anche per loro sempre la cronaca che leggiamo in taglio medio prostituzione sigiglia due abitazioni e una denuncia tutto questo a Montesilvano indagata una transe che aveva subaffittato gli alloggi ad altre prostitute e poi sempre a Montesilvano ritardi per il nuovo piano regolatore si rischia la città dormitorio serve un piano da qui a vent'anni dice il consigliere Adriano Tocco intanto incombe la grande Pescara un mese di tempo per le osservazioni scettico il sindaco Maragno non ci sono margini per farcela e ora le pagine Aquilane Ater ricostruzione alla svolta l'ANAC sblocca gli appalti un parere rimesso dall'anticorruzione consentirà di accelerare le gare per i lavori chiarita la diatriba tra cassa e competenza ma resta il nodo del cronoprogramma lento anche il DG Venanzio Gizzi sostiene che in questo modo il problema risorse sarà superato e poi in basso per la cronaca sempre elicottero precipitato la perizia di parte i sei indagati hanno sostenuto che non era utilizzabile il volo strumentale poi il blitz furti di caldaie in zona storica maxi operazione dei carabinieri sempre all'Aquila perdonanza gran vetrina a Matera presentata la sinergia con la capitale europea della cultura del 2019 dal 23 marzo al 15 aprile mostra interamente dedicata all'Aquila nella via della croce sarà esposta anche la bolla di Celestino il sindaco Lucano in collegamento alleanza tra le due città avanti ancora e qui siamo nella Marsica Burgo operaio muore schiacciato Marco Di Donato Vezzanese che lascia la moglie e un figlio era uno degli addetti all'officina meccanica stava lavorando dentro lo stabilimento con un muletto quando è rimasto sotto il pesante mezzo meccanico non è ancora chiara la dinamica dell'incidente il decesso è avvenuto dopo qualche ora in ospedale siamo ora alle pagine di Chieti con la vicenda Teate Servizi spariti soldi delle bollette carabinieri alla Teate Servizi scatta l'inchiesta sequestrati hard disk e documenti relativi ai canoni idrici degli operatori hanno riscosso denaro senza poi versarlo nelle casse dell'ente spunta un indagato mancherebbero all'appello decine di migliaia di euro il cerchio destinato ad allargarsi poi ancora di spalla leggiamo coltellate a cena azione premeditata lo sostiene il GIP durante la serata i cinque amici hanno bevuto ben dieci bottiglie di vino in basso Angelini a giudizio a Roma per un sarcofago antichissimo ieri l'imprenditore della sanità privata era in tribunale per il processo alle figlie e all'ex genero a Lanciano Agricoltura via alla fiera dei record presentata l'edizione numero 57 dal presidente Franco Ferrante da venerdì previsti 260 espositori in rappresentanza di 50 aziende grandi numeri per una rassegna tra le primissime in Italia venditori giungeranno anche dal Giappone dagli Stati Uniti e dalla Svezia proseguiamo siamo alle pagine di Teramo terremoto via alle denunce ci sono minacce di suicidio ieri la protesta al genio civile gli svolati chiedono le dimissioni di Dalberto dall'ufficio speciale per la ricostruzione stiamo in stanza di 36 metri quadrati con letto e cucina c'è chi oltre alla casa ha perso anche il lavoro l'associazione dei consumatori punta il dito contro la ricostruzione troppo lenta per i sismi 2016 2017 e allora andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dal Tg6 sul sit-in tanti cittadini terramani sfollati che si sono dati appuntamento per un sit-in sotto la sede dell'ufficio della ricostruzione a Teramo la loro è stata una protesta accorata dopo quasi due anni dal terremoto la ristrutturazione delle loro abitazioni non solo non è mai iniziata ma le pratiche non sono state ancora istruite eppure i fondi ci sono stiamo protestando fondamentalmente perché questo ufficio della ricostruzione non parte non decolla non dà la possibilità sia ai professionisti che a tutte queste persone che stanno fuori casa di avere una speranza di rientrare dentro la propria casa nei tempi più bravi possibili i progetti sono fermi l'ufficio della ricostruzione non dà le risposte sia ai professionisti che presentano le domande ma sia ai cittadini nei semplici cittadini che vanno lì a fare delle semplici domande su quanto la casa gli verrà ricostruita questo ritardo a chi bisogna attribuirlo? ma sicuramente all'ufficio della ricostruzione l'ufficio della ricostruzione non ha formato sufficientemente forse i nostri professionisti che trovano delle difficoltà nel presentare le pratiche non c'è neanche una trasparenza perché ci sono pratiche che sono state effettivamente già attivate ma che riguardano soprattutto le attività produttive con tutto il rispetto per chi ha perso un'attività produttiva ma qui c'è gente che è negli alberghi dopo due anni ancora intanto sono quasi 5.000 terramani che vivono fuori casa dall'agosto del 2016 i cittadini denunciano soprattutto la disorganizzazione evidente dell'ufficio regionale della ricostruzione aperto solo un giorno a settimana e perennemente sotto organico difficoltà che non vengono negate nemmeno dal direttore della struttura Marcello Dalberto Ingegnere la gente ha bisogno di risposte i terramani hanno bisogno di risposte voi cosa dite? Noi possiamo dire ai terramani ai quali va tutta la mia solidarietà che stiamo lavorando per loro non solo per i terramani ma anche per gli aguilani e pescaresi per tutta la regione Abruzzo che è stata naturalmente interessata dal sisma 2016-2017 accade questo noi come ufficio ci siamo organizzati ci siamo strutturati e naturalmente contiamo nel breve tempo di raddoppiare in termini di risorse umane di passare dai 23 a 40 45 risorse umane sempre sulla pagina di terramo del messaggero Zara apre al Gran Sasso ecco le offerte di lavoro porte aperte dal 6 giugno al centro commerciale il negozio sarà di 3500 metri quadrati andiamo ora alla pagina sempre sì terramana ma siamo a Giulianova Santoleri i testimoni non ricordano delitto Rapposelli i legali di padre e figlio mettono in dubbio le ricostruzioni fatte dalla vicina di casa e dalla farmacista non è certa l'ultima volta in cui si è stata vista la pittrice lunedì presentiamo il ricorso al tribunale del riesame dagli atti emerge che non è confermata la data del 9 ottobre e poi sempre per la cronaca Castrum processo unico con 15.000 intercettazioni scontro tra accusa e difesa sono oltre 131.000 le ore registrate di comunicazioni lasciamo il messaggero ci torneremo con le pagine dello sport andiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo anche in questo caso grande spazio al sit-in di ieri contro l'ufficio speciale per la ricostruzione la protesta diventa un boomerang per i politici 50 sfollati davanti all'ufficio al sit-in organizzato da Robin Hood e dall'ex assessore Franco Fracassa 1% è la percentuale di pratiche lavorate dall'ufficio speciale per la ricostruzione per i danni leggeri 7 pratiche su 700 richieste di contributo per Fracassa insostenibile la spesa del Cass rispetto a quella per i lavori e poi ancora Robin Hood lamenta l'associazione per i consumatori Robin Hood lamenta invece i problemi della piattaforma informatica delle pratiche e l'assenza di informazioni sui procedimenti in atto poca trasparenza intanto erogato il primo contributo per la ricostruzione di tipo B 8 mesi per ottenere il via libera su una singola pratica tra burocrazia esagerata e procedure incomprensibili proseguiamo siamo alla politica pagina 7 dal PD mandato esplorativo a Renzo di Sabatino proverà a ricompattare il centro-sinistra attorno alla sua candidatura primarie addio si chiede la città a questo punto le primarie potrebbero essere solamente l'estrema razio anche per i tempi stretti e poi in basso Fagnano l'attuale manager della ASL di Teramo Fagnano è stato in ballo come governatore del Molise il nome del direttore generale speso sul tavolo del centro-destra vedete una foto proprio del manager Fagnano e dell'ex governatore della regione Molise Michele Iorio avanti ancora siamo a pagina 8 settore opere pubbliche alla frusta i comitati di quartiere criticano la passata amministrazione politici e dirigenti e poi ancora a pagina 9 niente ostruzionismo sul referendum il teatro romano il commissario straordinario bacchetta del comitato promotore e poi ancora siamo alle notizie dalla provincia droga a fiumi da Napoli al Teramano i carabinieri di Teramo smantellano una organizzazione malavitosa vicina ai clan camorristici in 10 sono finiti in manette tra Napoli Teramo e Le Marche si cerca l'undicesimo componente del gruppo un sistema rodato l'organizzazione curava ogni dettaglio dall'importazione della droga dal napoletano con ripetuti viaggi su auto di piccola cilindrata per non dare nell'occhio alla suddivisione delle dosi la vendita e anche il recupero dei crediti facendo ricorso a minacce e danneggiamenti vediamo il servizio eccoli gli 11 arrestati all'alba di questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Teramo che hanno sgominato così un'associazione assai radicata sul territorio finalizzata al traffico di stupefacenti che spacciava al dettaglio nella zona compresa tra Alba Adriatica Martinsicuro San Benedetto del Tronto Chiaravalle e Falconara Marittima sequestrati due chili di cocaina e cinque chilogrammi tra ascese e marijuana una pistola e 230 proiettili di vario calibro la droga arrivava direttamente da Napoli e a Gomorra è ispirato il nome dell'operazione Stai senza pensieri in carcere sono finiti Vincenzo Saracino di Napoli Marigen Abduramani albanese residente a Martinsicuro Daniele Malafronte residente a Porto Sant'Elpidio Elio Cela albanese residente a Grottamare Pasquale Starita di Martinsicuro Nicola Fruguglietti residente a San Giuliano di Campania ai domiciliari invece Mario Iorio di Martinsicuro Francesca Di Cristo di Porto Sant'Elpidio Marco Basso residente a Falconara Marittima e Leonardo Ortenzi di Chiaravalle no non è una puntata di Gomorra anche se è un intercalare molto usato appartenente all'organizzazione quindi abbiamo ritenuto giusto dare questo appellativo questo questo titolo a quest'operazione che nella giornata di oggi ha consentito di sarticolare questo sodalizio criminale costituito da elementi sia di origine campana che elementi del luogo alcuni albanesi alcuni stranieri presenti sul territorio della provincia di Teramo di Ancona e di Fermo dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti abbiamo disarticolato questa organizzazione che nell'arco di nove mesi da quando abbiamo iniziato le attività di indagini ad oggi ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti quasi tre chili di cocaina quattro chili di marijuana e hashish e abbiamo sequestrato anche quasi diecimila euro di soldi in vario taglio provento dell'attività di spaccio un revolver e del munizionamento l'organizzazione si muoveva come le dicevo nelle marche e nel territorio abruzzese e aveva come base logistica il comune di Martinsicuro da dove poi veniva spedita e distribuita la sostanza stupefacente ai vari elementi presenti sul territorio di Grotta a Mare di Sporto Sant'Elpidio quindi per poi essere la droga smerciata nei locali notturni e nelle diciamo normali attività delinquenziali del territorio altre notizie dalla provincia di Teramo sulla città anche la discarica finisce in procura Sant'Omero sopra il luogo della municipale nell'invaso di Ficcadenti i vigili di Sant'Omero hanno trovato un vero e proprio lago fatto di acqua piovana e di percolato a Giulianova il sindaco ci ripensa e avvia la pulizia le pressioni dei bagnatori portano alla rimozione dello spiaggiato Mastro Mauro ha assunto a interim le deleghe al demagno dopo le dimissioni di Ruffini e invece a Roseto gli operatori chiudono la porta al sindaco pronti ad andare avanti con il ricorso contro la tassa di soggiorno di Girolamo si era detto disposto a modificare le regole della tassa per chiudere la polemica e andiamo alla pagina dello sport della città con notizie sul Teramo Calcio Bacio Terracino tiene il Teramo col fiato sospeso l'attaccante anche ieri non si è allenato coi compagni Palladini prepara le contromisure in caso di forfè ci sono anche le parole dell'attaccante Fratangelo il mio obiettivo è crescere e dare una mano alla squadra con Palladini sto trovando a continuità dopo l'infortunio di gennaio il ruolo ne ho interpretati tanti da quando gioco e ora una parentesi legata alle prime pagine delle testate sportive nazionali ecco qui con i verdetti di Europa League Milan che rabbia Lazio che sballo nei quarti a Londra passa l'Arsenal resta solo Inzaghi e poi chiaramente di spalla spazio anche ai sorteggi Juve-Roma attente a quei due e al derby Messi e CR7 sono il pericolo col City rischio sfida diretta oggi a Nion il sorteggio a mezzogiorno e poi sotto la testata Vale Forever Rossi in pista fino a 41 anni resto finché ne ho voglia vediamo il Corriere dello Sport l'apertura Juve colpo Gimenez Marotta rafforza la difesa salto decisivo al centrale dell'Atletico e poi sotto la testata Lazio da sogno Milan saluta Inzaghi vince a Kiev volano i quarti Papera di Gigio altro KO con l'Arsenal e quindi tutto sport l'apertura è questa pesca pericolosa con le foto di Aguero Messi e Cristiano Ronaldo tre potenziali pericoli per le italiane Juventus e Roma sotto la testata Lazio padrona Kiev arbitro e Gigio ai Milan e poi in basso da Gallo a Gambero Belotti quando tornerà il Toro torniamo ora ai quotidiani abruzzesi e in particolare sul centro partendo dal Pescara Pescara punto Epifani col 3-5-2 nella polveriera di Avellino in attacco fiducia Cappelluzzo Bunino e Mancuso si giocano l'altra maglia Novellino litiga con i tifosi che lo invitano a dimettersi e contestano la squadra Bovo recupera si ferma Mazzotta Valzania convocato nell'Under 21 salterà la partita con l'Empoli anche in Irpignia l'ambiente in fibrillazione in caso di sconfitta il tecnico verrebbe esonerato e poi parla l'ex tecnico biancazzurro Franco Oddo ora serve gente di carattere i biancazzurri manca l'autostima in questa fase non bisogna effettuare stravolgimenti tattici Zeman è rimasto indietro avanti ancora c'è questa intervista esclusiva all'ex DS del Pescara Claudio Garzelli ex dirigente anche del Chieti ecco qui l'evoluzione del calcio vista da Claudio Garzelli quando Volpi multava chi dava la palla indietro l'ex DG delle Chieti e del Pescara il tatticismo uccide lo spettacolo su dieci passaggi oggi otto sono fatti l'indietro la cosa a volte mi annoia un po' il calcio è cambiato con l'arrivo vent'anni fa delle televisioni a pagamento ci sono poi altri passaggi interessanti all'esperto dirigente ex Chieti e Pescara per la serie C Teramo otto esami sulla strada verso la salvezza diretta tre gari in una settimana poi un finale difficile Bacio Terracino ancora a parte Palladini prova anche il 3-5-2 serie D rischio fallimento l'Aquila nel caos il comune minaccia la messa in mora transazione di 135 mila euro mai pagata ente all'attacco sindaco e assessore costretti al recupero forzoso poi in taglio medio leggiamo sempre sul fronte l'Aquila con la squadra solo magazziniere team manager oggi conferenza stampa di tecnico e giocatori la sfida col campo basso sarà recuperata il 4 di aprile per il calcio a 5 l'acqua e sapone sorride il recupero record per Lima dall'infortunio nazionale alla probabile convocazione per domani in casa nera azzurra assente Luca Ianna la prossima settimana Coppa a Pesaro andiamo anche sul messaggero ecco qui la pagina sul Pescara Pescara ad Avellino in crocio pericoloso per la squadra di Epifani non fare risultato potrebbe costare la discesa verso gli inferi confermato il nuovo modulo 3-5-2 in difesa potrebbe rientrare Bovo e poi in taglio medio Farias un pescarese con gli irpini nel cuore e poi in basso per la MotoGP Iannone stavolta voglio essere tra i primi debutto domenica in Qatar lasso di vasto lancia la Suzuki ho buone sensazioni quindi pagina 53 l'ultima che vediamo derby Avezzano Francavilla operazione stadio pieno il patron Paris dell'Avezzano stiamo andando molto bene però manca il pubblico i giocatori testimonial per un pacchetto sciarpa e biglietti scontati e poi sul fronte Teramo come abbiamo visto Bacio Terracino tiene in ansia il Teramo oggi la verifica questione l'Aquila anche il sindaco contro l'attuale proprietà saremo costretti al recupero forzoso dei nostri crediti sempre per la serie Diva stese verso i playoff ma c'è attenzione con gli Ultras domenica match con la San Giustese ore 15 all'Aragona per il volley la SIECO ora brinda la settimana salvezza conquistata Reggio Emilia e Potenza Picena solo Passerella e poi in basso Roseto supera la verifica di bilancio Norante un po' deluso dai supporter e siamo alla fine di questa edizione di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i nostri TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 le edizioni principali mattino 6 torna invece domani mattina alle ore 8 grazie a Silvia Gentili in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata a Silvia